La parabola dei talenti, notissima, utilizzata per stimolare la disponibilità dei nostri talenti messi al servizio degli altri, quasi come capacità o doti personali che possono aiutare ognuno di noi a realizzare se stessi. Quanto Gesù ci dice con questa parabola tuttavia è molto di più. Non è un invito semplicemente a prendere coscienza dei doni naturali e sfruttarli al massimo. È ancora una volta l'invito a mettersi davanti a Dio per entrare nella giusta relazione con Lui e vivere la propria vita come dono da condividere. Ecco la serietà della nostra risposta. Un uomo che chiama i suoi servi, consegna loro, prima di partire per un viaggio, i suoi beni, appunto i talenti, monete preziose, un bene immenso, si calcola il corrispettivo di circa 6.000 giornate lavorative, volutamente dunque Gesù sceglie un'unità di misura spropositata. E questi servi ricevono chi uno, chi due, chi cinque talenti. E subito, almeno alcuni, i primi due, chi ha ricevuto cinque e chi ne ha ricevuto i due, si mettono in grand'affare per guadagnarne altri. Raddoppiano il loro tesoro e così si presenteranno al padrone quando torna, consegnando non solo quanto hanno ricevuto, ma anche quanto hanno guadagnato. E ricevono da lui entrambi un elogio straordinario, un invito a godere la gioia del padrone, una responsabilità su molto, essendo stati fedeli nel poco. Ma non è qui che Gesù vuole fermare la nostra attenzione. Per contrasto, egli descrive nella parabola la reazione del servo che ha ricevuto un solo talento. Si fa per dire, non è poco quanto ha ricevuto, anzi, Gesù nella parabola ci dà la chiave di lettura fin dall'inizio, quando dice che il padrone ha dato a ciascuno secondo le sue capacità, dunque ha ricevuto tutto ciò che egli può custodire, amministrare e sviluppare. Ma è vinto dalla paura, in modo radicale. Egli fa ciò che secondo la nostra logica sembra quanto di più fondato, non rischia, conserva, nasconde, di modo che potrà consegnare al padrone in modo integro, intatto, quanto ha ricevuto. Ed è quello che accade appunto al ritorno del padrone dal suo viaggio. Ma ascoltiamo questo dialogo nel quale viene fuori una mentalità errata, una comprensione completamente lontana dalla verità. Signore, so che sei un uomo duro. Non ha compreso l'atto di fiducia estrema. Lo ha visto come una persona dispotica che miete dove non ha seminato e raccoglie dove non ha sparso. Non è entrato nella giusta relazione con il suo signore. La paura ha accecato la sua mente, ha fatto l'unica cosa che pensava fosse giusta per evitare il peggio. Ha nascosto il talento e ora restituisce ciò che non gli appartiene. Letto così, viene da dire peccato. Non ha compreso che quel talento era messo nelle sue mani, che nella gratuità, nella generosità, nella fiducia estrema del suo signore, egli era chiamato a condividere già quanto originalmente non gli apparteneva. Il rimprovero è solenne ed è uno scossone forte anche per noi che potremmo, nella paura della vita, non porci nel modo autentico davanti a Dio e davanti a noi stessi e quindi sciupare la nostra esistenza fino al fallimento. L'incontro con Gesù invece ci deve fare uscire da questo stato di torpore. Altro che pigrizia, cattiveria, non è così che ci si pone davanti al signore. Il servo si troverà senza nulla, gli verrà tolto il talento che viene dato a chi ne ha già tanti, dieci. È l'abbondanza dei doni, è la generosità estrema di questo Signore, di Dio nei nostri confronti. È la nostra grave e concreta responsabilità che non ci può assolutamente esimere dal rispondere con fiducia, con onestà ma anche con impegno grande e quotidiano per evitare quella sofferenza che tante volte assaporiamo nella nostra vita e che ci circonda da ogni dove, di chi, avendo smarrito il senso ed essendosi chiuso in se stesso, si condanna alla solitudine estrema. No, per mezzo di Gesù Dio offre a tutti la sua gioia, ma occorre che la nostra vita, con i talenti ricevuti da Lui, sia messa a disposizione di tutti.